210 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo, 7.931 i test delle ultime ore, di cui 4.224 molecolari e 3.707 antigenici. Il tasso di positività complessivamente è del 2,6%. Il più anziano tra i contagiati ha 90 anni, il più piccolo tre mesi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1.478, di età compresa tra 75 e 97 anni, due in provincia di Pescara, uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e quattro in provincia di Chieti. Del totale odierno un caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. I guariti sono invece 573. Tra nuovi contagiati, deceduti e guariti attualmente in Abruzzo sono 10.062 i positivi accertati, meno 374 rispetto a ieri. 414 pazienti, più 13 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 44, meno 3 rispetto a ieri, con tre nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.604, meno 384 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.